Tutto pronto al Pala Tarquini, è il pomeriggio di Ciampino-Napoli, l'incontro valevole per la terza giornata della regular season della Serie A di Puzza New Energy. Suppressing di Perugino, manda fuori ancora Casassa, che ha letto a tuppertù con Casassa e c'è la rete! Si sblocca l'incontro dopo due minuti e trenta secondi. Recupera Pala però Petrov, prova andarsene sulla destra, ancora Petrov, recupera il 99 del Napoli, ancora Pesce. Verso Mancuso e c'è la rete! Il 2-0 della formazione di Colini. Pina, Petrov ancora per Pina, Petrov farà passare su Salla, pallone recuperato ora dal Napoli, prova Duarte a porta vuote e c'è la rete! La rete di Ciampo a Duarte dopo 6 minuti e 21 secondi. Bene un buono lancia lungo, lo fa di testa verso... e c'è la rete! La rete! Intanto Duarte, pallone che passa, c'è il quinto gol! Pocherissimo dei partenopei! Salla, Sutton deve stare attento a non abbassare troppo il becetto, intanto a porta vuota Salas! E c'è la rete! A 7 e 35! Luca, ora ciolito Salas, la suola intanto! E c'è la rete di Mancuso per assist, su assist di Ercolessi.